Ciao a tutti, sono Marta Fovana, istruttrice fitness e personal trainer. Oggi voglio proporre alcuni esercizi per le braccia adatti al terzo trimestre di gravidanza. Per aiutarmi ho chiamato Olivia che ha l'ottavo mese di gravidanza. Allarghiamo le gambe, ginocchia leggermente piegate, posizione neutra. Portiamo le braccia ai fianchi e facciamo la farfalla al contrario, ovvero cerchiamo di unire i gomiti dietro la schiena. Facciamo otto ripetizioni per tre serie. Ultimati alle tre serie, prendiamo i pesetti. Bicipiti alternati, quindi portiamo i pesetti all'altezza delle gambe, all'altezza delle cosce, gomiti stretti ai fianchi. Solleviamo un pesetto, lo portiamo verso la spalla e alterniamo destra-sinistra. Tre serie da dieci ripetizioni ciascuna. Facciamo un grande passo in avanti. Appoggiamo la mano o anche il gomito, braccio lungo, perpendicolare al terreno. Piego il gomito, mantenendo il gomito in alto, stendo il braccio. Torno, piego, stendo, ripiego e torno nella posizione di partenza. Tre serie da otto ripetizioni ciascuna alternando destra e sinistra. Benissimo, abbiamo finito gli esercizi per le braccia per il terzo trimestre di gravidanza. Ciao a tutti!